Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'InfoTime Nintendo il nostro classico appuntamento domenicale dove ragazzi vi comunicherò i giorni e gli orari dei vari tornei che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi Nintendo che di solito porto sul canale prima di iniziare e di comunicarvi questi eventi ragazzi volevo solo dirvi che questo video durerà un po' più del solito perché ho un sacco di novità da comunicarvi e riguardano soprattutto voi, voi che magari vi siete appena iscritti sul canale ragazzi e magari volete sfidarmi su vari giochi come Splatoon, Mario Kart 8 e così via quindi mi raccomando guardate questo video dall'inizio alla fine ok adesso direi di iniziare ad annunciarvi le varie novità tra cui la creazione di un nuovo profilo dedicato proprio a Splatoon perché ragazzi su JoePad17 Splatoon ho raggiunto la quota di 100 amici quindi non posso più accettare nessuno e allora ho deciso di crearne un altro profilo dedicato sempre a Splatoon che si chiamerà JoePad17 Splatoon 2 dove ragazzi tutti quelli che non sono riusciti a rientrare nel profilo Sapphire17 e nel profilo JoePad17 Splatoon potranno inviarmi l'amicizia e giocare con me su Splatoon considerate che essendo un nuovo profilo il mio livello su quel profilo sarà basso quindi avrò bisogno di voi per crescere e salire di livello accetterò su questo profilo solo le amicizie da parte di persone che non sono riuscite a rientrare nei primi due profili e naturalmente ragazzi ogni settimana dalla prossima però non già da questa gli eventi su Splatoon saranno 3 e non più 2 3 cosa vuol dire il primo evento naturalmente dureranno mezz'ora l'uno quindi giocherò con voi mezz'ora online 3 volte la settimana e la prima volta giocherò col profilo Sapphire17 la seconda volta JoePad17 Splatoon e la terza volta JoePad17 Splatoon 2 così ragazzi spero di riuscire a giocare con tutti non giocheremo partite private giocherò amichevoli magari pro e mischie mollusche comunque adesso devo vedere un attimo questa settimana invece ragazzi vi annuncerò dopo come si svolgerà il tutto su Splatoon quindi spero che questa idea vi piaccia mi raccomando inviatemi l'amicizia al nuovo profilo JoePad17 Splatoon 2 ma solo se non me l'avete già inviata e non siete magari rientrati nei 100 amici che ho già su JoePad17 Splatoon e Sapphire17 adesso ragazzi direi di passare al programma di questa settimana perché ho deciso di comunicarvi più o meno che video usciranno non so ancora quando di preciso però spero di riuscire a portarvi questi video e stavo pensando ragazzi di pubblicare questa settimana due video dedicati a Mario Maker due video dedicati alla Story Mode di Minecraft un video dedicato a Splatoon la Road to Rank S Plus due video dedicati alla Splatoon Challenge due video dedicati a Pitmin 3 un video ho visto che il finale di serie ragazzi vi è piaciuto parecchio dedicato ad Until Dawn ma con un finale alternativo e due video dedicati alla Road to the European Cup quindi PES 2016 questi in teoria sarebbero i video che vorrei pubblicarvi questa settimana sul canale naturalmente ci saranno anche quelli dei tornei che giocheremo ok allora adesso direi di passare prima di annunciarvi i tornei a farvi vedere perché squadra giocherò durante il prossimo Splat Festival che si terrà il prossimo weekend ragazzi come potete vedere hanno messo questo cartellone come sempre nella piazza centrale di Coloropoli dove potete scegliere perché squadra schierarvi il nuovo Splat Festival si svolgerà da sabato 7 novembre dalle ore 7 fino a domenica 8 novembre alle ore 7 io vi registrerò naturalmente un video dedicato proprio a questo Splat Festival ho già deciso perché squadra schierarmi e vi faccio subito vedere e mi schiererò con gli zombie ragazzi perfetto adesso mi daranno la maglietta del Festival ma non subito anzi quando inizierà lo Splat Festival e adesso ragazzi finalmente direi di passare ai tornei che giocherò con voi questa settimana su Splatoon naturalmente non saranno partite private giocheremo partite pubbliche amichevoli spero di giocarle con voi così mi aiuterete a salire di livello e guadagnare altri soldi per potenziare il mio equipaggiamento e le armi ragazzi su Splatoon sarò online giovedì 5 novembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 questa settimana le partite i tornei dureranno ancora un'ora poi dalla prossima mezz'ora ogni torneo giocherò giovedì 5 novembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 col profilo Setfire17 quindi col mio vecchio profilo invece ragazzi sabato 7 novembre dalle ore 14 alle ore 15 giocherò delle altre mischie mollusche pubbliche su Splatoon con il profilo Jopad17Splatoon così chi per caso non è riuscito a rientrare tra gli amici che ho su Setfire17 potrà comunque giocare con me questa settimana su Splatoon utilizzando l'amicizia che ha sul mio profilo Jopad17Splatoon e con questo profilo ragazzi sarò online su Splatoon sabato 7 novembre dalle ore 14 alle ore 15 se avete dei dubbi ragazzi lo so magari è un po' difficile dirlo a voce fidatevi che poi in pratica è molto molto più semplice scrivetemi pure delle domande qui sotto e naturalmente appena possibile vi risponderò adesso direi di passare su Mario Kart 8 per annunciarvi il torneo di questa settimana ok ragazzi eccoci su Mario Kart 8 il torneo di questa settimana è proprio dedicato al nuovo titolo di Need for Speed che uscirà questa settimana su PlayStation 4 e Xbox One quindi si chiamerà questo torneo Need for Speed sarà un gran premio 200cc con tutti i tracciati del gioco base quindi potrete partecipare naturalmente tutti quanti gli ultimi due tornei ragazzi sono stati veramente veramente emozionanti sarà una sfida individuale con tutti gli oggetti utilizzeremo però solo i kart dato che comunque su Need for Speed sono presenti solo le auto tutti i comandi naturalmente 12 corse non ci sarà il computer potrete partecipare con qualunque livello di esperienza da tutto il mondo e il torneo sarà aperto a tutti basterà ragazzi inserire per trovare questo torneo più facilmente nella lista di tutti i tornei presenti su Mario Kart 8 il seguente codice 20 34 87 82 99 50 e ragazzi il torneo si svolgerà il 4 novembre che praticamente è un mercoledì dalle ore 18 e 30 alle ore 19 e 30 perfetto direi che possiamo concludere questo infotime nintendo qua mi raccomando inviatemi l'amicizia sul nuovo profilo jopa 17 splat 2 se volete giocare con me su splatoon mi raccomando seguite i video dell'infotime nintendo per sapere quando sono online con che profilo ragazzi e come sempre se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate scrivetemi pure qui sotto se avete alcune domande da farmi io appena possibile vi risponderò condividete questo video con i vostri amici iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui sull'infotime nintendo alla prossima ragazzi di Grazie a tutti.